Allora, dedichiamoci a questo esercizio. Allora, questo esercizio qui parla di una tempesta che si muove da ovest verso est e dobbiamo scrivere un programma che preveda l'evoluzione della tempesta. La tempesta è rappresentata da una mappa come questa in cui nelle varie caselle di questa mappa che è fatta da un certo numero di righe, un certo numero di colonne poi vedremo i dettagli che ci dice il testo c'è o un trattino per dire qua non c'è tempesta oppure un numero da 1 a 9 che rappresenta l'intensità della tempesta in quella locazione, in quella cella. Quindi, tutti i discorsi che abbiamo fatto sui formati di file, qua vanno a pallino perché è un formato di file più strano allora è fatto così c'è un file mappa.txt che contiene sta roba qua. Questo rappresenta una tempesta in cui è una mappa di 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in questo caso colonne per tre righe ma può avere dimensioni che vuole lui dice che le coordinate 0,0 sono quelle in alto sinistra quindi questa è la casella 0,0 ammesso che ci servirà poi lavorare per coordinate ma ci piace che quello sia 0,0 perché è la prima riga, la prima colonna quindi corrisponde al modo in cui avremo di rappresentare queste cose in una matrice. Cosa devo fare con questa cosa qua? Lui mi dice fai due cose calcolare e stampare le coordinate e l'intensità dell'ombelico della tempesta così detto cos'è questo ombelico? È l'incrocio tra la riga con la somma più alta e la colonna con la somma più alta quindi in questo caso la tempesta, la prima riga, somma 4 la seconda riga, 5 più 3, 8 più 1, 9 la terza riga, 7 quindi la riga più intensa è la seconda, la riga 1 e come colonna la prima colonna ha intensità 1 più 3, 4 la seconda 2 più 4 più 4, 10 2 più 3, 5, 1 quindi la seconda colonna l'ombelico della tempesta è qua dovremmo scrivere si trova nella riga 1 alle coordinate 1, 1 sì, 1, 1 no, 1, 2 no, 1, 1, scusate sì, riga 1, colonna 1 seconda riga, seconda colonna con intensità 4 questa è la prima cosa che dobbiamo scrivere poi c'è la parte divertente in orte della tempesta si sposta progressivamente a destra avanzando la tempesta diminuisce la propria intensità ogni volta che il fronte della tempesta cioè le sue caselle più a destra si spostano perdono di un'unità e quando arrivano a zero spariscono il programma deve stampare l'evoluzione della tempesta fermandosi quando la tempesta è completamente uscita dalla mappa oppure si è esaurita allora, cosa vuol dire questa cosa qua? c'è l'esempio per fortuna che dice questa è la situazione originale della tempesta l'ombelico l'ha trovato qui ok, l'abbiamo trovato anche noi poi fa vari passaggi di evoluzione ogni passaggio di evoluzione in che cosa consiste? consiste nel prendere tutti i numeri 1, 4, 3 e spostarli a destra di una casella quindi nella prima colonna ci avrò tanti zeri tanti trattini e poi se c'era uno in prima colonna va a finire in seconda colonna al passo successivo l'uno andrà a finire in terza colonna vedete che il blocco di numeri si sposta ogni volta di un passo a destra e il numero che era alla destra estrema di ciascuna riga perde un pezzo quindi il 2 si è spostato ma è diventato 1 l'1 si è spostato ma è diventato 0 e quindi non c'è più da questo punto in avanti il 2 è diventato l'estremo destro della tempesta e quindi non solo si sposta ma perde valore ok quindi 1 4 3 1 cosa capita? che l'1 il 4 il 3 li sposto a destra in una posizione l'1 lo decremento oltre a spostarlo a destra infatti l'1 è sparito ha lasciato il posto uno 0 qui ho 1 4 3 e cosa farò? prenderò 1 4 3 lo sposto a destra in una posizione 1 4 2 perché devo decrementare l'ultima cifra infatti vedo che c'è un 1 4 2 qua quindi lo spostamento della tempesta è un'operazione che faccio per ogni riga per ogni riga avrò un blocco di cifre la cifra più a destra la decremento e se è a 0 sparisce e se no tutte vengono spostate a destra in una posizione e questa evoluzione della tempesta va ripetuta tante volte fino a quando non si esaurisce del tutto quindi questo è l'ultimo passaggio dopo il quale avrei tutti i 0 ok allora cominciamo chiaramente a impostarlo ma non pretendo di riuscire a finirlo oggi prima domanda abbiamo capito bene cosa dobbiamo fare l'input è un file che contiene solo sta roba qua mappa.txt l'output è queste stampe qua video una dopo l'altra la prima domanda che dobbiamo fare è se mi dessero un file mappa.txt diverso da questo lo saprei fare a mano? perché se non ho capito come si fa a mano è inutile che provi a implementarlo quindi prima di tutto devo chiarirmi sul fatto di aver capito bene che cosa devo fare fatto questo vabbè la fase di input del programma bisogna reggere sta roba qua non mi spaventa sono un po' di righe poi bisogna analizzarla e poi ci faccio i lavori sopra allora la domanda più importante di questo esercizio probabilmente è qual è il modo migliore di rappresentare questi dati i dati della mappa che è la mappa di partenza ma è anche la mappa che via via evolve questa qua mi arriva quando la leggo come una lista di stringhe no? una stringa per riga alla letta del file mi conviene tenerla lavorarci come lista di stringhe oppure quando la leggo mi conviene trasformarla in qualcosa di diverso a me viene in mente però non vorrei influenzarvi troppo una bella matrice di numeri interi cioè io la vedo così ma la leggo 0 virgola 2 virgola 2 virgola 0 0 perché poi dovevo farci l'operazione tipo decrementa controlla se è 0 o no e averlo come stringa e poi dopo c'è quell'underscore quel trattino lì che vale 0 si è detto scema quindi mi creo una rappresentazione di questi dati la più possibile comoda per farci poi le operazioni sopra poi è vero che quando la devo stampare devo riportarla in questo formato come stringhe va bene mi costa meno avere una matrice di numeri e stamparla in questo formato che non dover fare sposta a destra decrementa di 1 avendo delle stringhe ok quindi questa è io in mente ho il problema devo capire come trasferire le informazioni sul problema nella mente del mio programma cioè qual è la struttura dati più adatta in questo caso io avrei scelto una matrice di numeri allora proviamo a cominciare a impostare qualcosa quindi nella settimana 10 faccio una cartella che si chiama tempesta all'interno del quale creo la mappa non va male prendere questa quindi mi sono creato un file di testo e ci ho messo dentro questa roba qua mappa.txt e poi tempesta.py è dove mi tempesta è dove mi diverto ok quindi risolviamo tema d'esame tempesta allora cosa abbiamo detto che la scelta principale che abbiamo fatto finora è che la tempesta viene rappresentata da una matrice e ci ricordiamo matrice vuol dire lista di liste di numeri interi punto allora la prima cosa che se è così la prima cosa che devo fare è leggere questa matrice costruire questa matrice partendo dalle informazioni sul file allora lo posso fare in una funzione io per comodità mia per preferenza mia preferisco strutturare un programma come insieme di tante piccole funzioni che così le posso testare una per una ok so che alcuni di voi sono allergici a questo modo e preferiscono fare programmoni lunghi sbrotolati va bene all'esame non vi chiediamo di farlo in un modo o nell'altro vi chiediamo di garantire che funzioni però allora def leggi tempesta la funzione che riceve il nome di un file da leggere e restituisce questa famosa la matrice allora qui dentro questa funzione apriamo il file leggiamo i dati e costruiamo la matrice con tante righe tante colonne dovremo vedere allora qui dentro facciamo teniamo la f per brevità è il nome del file nome file virgola in lettura virgola vai via encoding in questo caso non abbiamo caratteri accentati ma per buona abitudine scriviamolo f punto close ok e qua in mezzo leggiamo il file allora questa matrice non sarà tanto grande però per me è importante sapere quante righe ha quante colonne ha eccetera eccetera io direi leggiamola le righe della matrice me le prendo con un read lines e quindi ho righe che cos'è? è una lista di stringhe che corrispondono alle singole righe col barrenne finale quindi lista di stringhe che ciascuna è una riga del file con barrenne qui già così la lunghezza di questa lista mi dirà quante righe ha la tempesta la lunghezza di ciascuna stringa mi dirà quante colonne ha la tempesta più uno perché c'è il barrenne io qua le altre operazioni le posso fare a file chiuso perché ormai tutto ciò che dovevo leggere l'ho già letta e ce l'ho in questa lista di stringhe righe tutti i dati che mi servono sono già lì dentro però ho scelto l'ho scritto sopra ho scelto di non lavorare direttamente su questa lista di stringhe perché secondo me è scomodo e allora travaso le informazioni di questa lista di stringhe in una matrice di interi e quindi mi devo costruire questa matrice di interi quindi la matrice parte vuota e la costruisco una riga per volta e una riga della matrice corrisponderà a un elemento della lista di stringhe quindi per ciascuna riga di queste righe riga che cos'è? è una stringa della mia lista di stringhe del readlines questa riga ha tanti caratteri più uno più il barrene finale ok? adesso dobbiamo costruire gli interi i numeri interi corrispondenti alle singole posizioni dei caratteri allora posso andare a iterare sui singoli caratteri di questa riga magari togliendo quel fetente a capo quindi vado a iterare su tutti i caratteri tranne l'ultimo e cosa faccio per ciascun carattere? aggiungo un elemento alla riga della matrice quindi non la chiamo riga perché riga è già la stringa la chiamo valori di questa riga i valori interi di questa riga costruisco una lista che sarà che via via ci metto dentro gli elementi e sarà poi la prima riga della matrice e per ogni carattere a questo punto carattere che è il singolo carattere e dato il carattere devo aggiungere un intero un numero intero dentro valori che costruirò via via per avere poi la riga intera a seconda questo carattere può essere una cifra numerica o un trattino quindi se il carattere è uguale a un trattino allora nei valori ci aggiungo zero altrimenti se il carattere è numerico ci aggiungo il valore numerico stesso valori punto append carattere int di carattere altrimenti c'è qualcosa che non va non deve capitare che io trovi qualche cosa che non sia né un trattino né un carattere numerico nella maggior parte degli esami vi sia una frasetta che si dice si assuma che il formato del file sia corretto quindi non vi si richiede di fare cose particolari in questi casi qua a questo punto quando ho finito questo ciclo for cosa è successo che io avrò costruito una lista valori con i valori numerici corrispondenti ai caratteri della prima riga prima insomma dipende dall'interazione in cui sono riga e quindi lo posso aggiungere alla matrice quindi io qua ho una riga di caratteri entro con una riga di caratteri perdono non riga valori ed esco con una riga di numeri da aggiungere alla tabella matrice e quando l'ho fatto su tutte le righe ho finito quindi essendo una struttura bidimensionale ho un doppio ciclo per costruirla ciclo esterno che costruisce le righe una per volta e ciclo interno che costruisce le colonne una per volta andando ad esplorare i dati di ingresso che sono quelle strime ok vediamo un attimo se funziona qui sono dentro la funzione leggi tempesta mettiamoci due istruzioni per richiamarla quindi faccio mappa uguale leggi tempesta con il nome del file che si chiama mappa.txt e poi facciamo pprint di mappa così vediamo cosa esce pprint facciamogli importare quindi questo è venuto fuori così 0 2 2 0 0 0 1 4 3 1 3 4 0 0 0 direi che corrisponde ok ok e quindi abbiamo scritto una funzione per leggere i dati della tempesta e metterli in una matrice da questo momento in avanti non frega più niente dei dati del file lavoreremo con questa variabile mappa e cosa ci dobbiamo fare con questa variabile mappa vabbè la prima cosa che ci chiede il programma di fare è calcolare l'ombelico così detto allora ci facciamo una funzione che riceve la mappa e restituisce le coordinate dell'ombelico ho scritto 1 1 perché lo so ma adesso ci devo mettere il codice per calcolare queste robe solo per capire cosa vogliamo che faccia questa funzione riceve la mappa e restituisce una coppia di numeri e quindi a questo punto il programma principale ha già la pappa pronta può dire che la riga e la colonna dell'ombelico sono calcolate dalla funzione ombelico e quindi può semplicemente stampare una bella f stringa l'ombelico mettiamo le virgolette doppie perché mi serve l'apostrofo l'ombelico è in posizione riga colonna e vale mappa di RC la funzione l'ombelico mi restituisce le due coordinate di riga di colonna e io per stampare vabbè devo stampare le coordinate che ma qualche altra funzione e anche il valore della tempesta in quel punto che chiaramente lo posso sapere perché basta leggere la mappa in quella posizione quindi mi dirà che l'ombelico è in posizione 1-1 e vale 4 dimmi perché perché pprint non lo so ha le sue logiche pprint quando lui lo fa stampa secondo di come ritiene che sia pritti si vede che pensa che pritti sia così perché ci sta in una riga sola probabilmente se volessi allora adesso arrivo questa è una stampa chiaramente di debug grezza per vedere che funzioni ovviamente dovremmo farci una funzioncina che da questi numeri ci stampa la tabella con i trattini allora a questo punto lo facciamo bella e ci dimentichiamo il pprint dimmi certo allora non è che pprint non funziona bene non facciamo shaming fa quello che ritiene pritti dal suo punto di vista fa il print mi stampa i dati e li formatta come preferisce come preferisce lei se non mi piace come fa lei sono sempre liberissimo di farmi la funzione che piace a me ok perché si offende il pprint ok allora adesso abbiamo barato chiaramente perché questo qua non è 1-1 dobbiamo fare i conti allora dobbiamo fare i conti di qual è la riga la cui somma degli elementi è massima quindi mi devo fare magari una variabile che è la somma di ciascuna riga somma riga 0 sarà la somma degli elementi della riga 0 somma riga 1 sarà la somma degli elementi della riga 1 e così via e poi vi vado a vedere qual è il valore più grande qua dentro ok quindi calcolo una lista che contiene il valore per ciascuna riga la somma degli elementi e quindi somma riga va bene partiamo come una lista vuota e vado a iterare su tutte le linee della matrice quindi for for riga in range length mappa length mappa è il numero di righe r è il numero di riga la somma che cos'è la somma degli elementi di quella riga beh attenzione se io faccio mappa di r mappa è la lista mappa di r è una riga che a sua volta è una lista di interi ma se devo fare la somma degli elementi di una lista di interi c'è già la funzione sum che me la fa e quindi somma riga appende somma giusto? r è la riga riga 0, 1, 2 alla riga 1 mappa di 1 è la lista che contiene le varie colonne essendo una lista faccio sum di lista e la funzione sum giame di somma poi non ho finito somma riga a questo punto sarà una lista che contiene un numero da fare ogni riga e devo trovare il massimo anzi non devo trovare il massimo devo trovare la posizione del massimo e come posso fare vabbè potrei fare un max e un index calcolami il massimo e diminuovi dove si trova quindi il massimo di riga uguale max di somma riga e la posizione del massimo della riga uguale riga sulla somma riga punto index del max riga insomma riga cosa conterrà 4 10 7 non mi ricordo ancora cose del genere i numeri delle somme delle varie righe il max riga è 10 che è il numero più grande che ho visto e poi faccio un index per farmi dire senti ma in quale indice si trovava il 10 se ce ne fosse più di uno mi da il primo quindi faccio due passate nella lista la prima per trovare il massimo la seconda per trovare la sua posizione non è il massimo dell'efficienza si poteva fare con una passata sola ma dovendo si scrive di fuori a mano e quindi questa posizione del massimo della riga è di fatto la riga che devo restituire al mio chiamante poi farò una cosa analoga sulle colonne quindi calcolerò a questo punto il massimo per colonna quindi avrò una somma colonna che contiene le somme delle singole colonne e avrà tanti elementi quanti sono le colonne per ogni colonna chiamiamola c in range di line di riga di zero di mappa di zero scusatemi line di mappa è il numero di righe line di mappa di zero è il numero di colonne perché è la lunghezza della singola lista contenuta somma uguale ecco qui sono un pochino più sfortunato perché riga di zero mi dava già questo e quindi avevo una lista su cui potevo fare la somma se invece mi dicono qual è la somma degli elementi della colonna zero sono questo più questo più questo che però sono sparsi in liste diverse posso fare una sum non ho una lista che contenga quei tre numerini lì quindi non posso fare la funzione sum che si aspetta di avere una lista con i numeri da sommare i numeri da sommare ci sono ma sono sparsi in giro allora me lo sommo a mano quindi non è del tutto simmetrica la situazione sulle righe rispetto a quelle sulle colonne perché le righe sono più facili da ottenere mappa di zero mappa di uno mappa di due sono le righe la terza colonna la terza colonna è il terzo elemento della prima riga virgola il terzo elemento della seconda riga virgola il terzo elemento della terza riga che gli devo andare a prendere uno a uno non c'è un'istruzione per farlo ok quindi non sogniamoci di scrivere mappa di colonna no questo mi estrarrebbe la riga c sempre la riga e quindi vabbè pazienza facciamo una somma un elemento per volta itro sulle righe tengo fissa la colonna c sommo gli elementi delle varie righe e farò somma uguale somma più mappa di rc quindi questa somma qua la c la tengo ferma perché è nel ciclo più esterno e la r la faccio viaggiare riga 1 2 3 e alla fine avrò un valore della somma alla fine di questo ciclo for ho sommato tutte le righe della colonna c e quindi questo è il valore totale della somma della colonna c che posso tranquillamente aggiungere alla somma delle colonne quindi vabbè poiché le colonne sono sparpagliate non posso usare la sana userò queste tre righe ma alla fine l'idea è sempre la stessa la somma delle colonne è questa avrò una lista con le somme di colonne che ha tanti elementi quante sono le colonne infatti ad ogni iterazione considero una colonna diversa e si aggiungo un valore diverso e poi una volta che ho questa quindi sono finiti questi for il massimo valore delle colonne sarà a questo punto il max di somma col e la posizione del max delle colonne sarà somma col punto index di max col e quindi questo è il valore che ritorna come secondo elemento della funzione la cosa più importante in questi ragionamenti quando scrivete questo codice qua è chiedervi sempre ma io saprei scrivere adesso come fatta somma col che valori contiene visualizzare scriverlo visualizzarmelo in mente sapere esattamente cosa ci sto mettendo dentro cos'è è una lista di cosa di interi quali le somme di colonne quanti uno per ogni colonna quando costruisco queste cose come prima cosa io cerco di costruirmi in mente i dati che mi servono poi dopo scrivo le istruzioni per calcolarle però qui abbiamo sempre un po' il tempo contingentato però se facessi esercizio sul serio per conto mio avrei sempre un foglio di carta in cui io mi disegno i dati che mi servono ok ho la matrice lì mi serve una lista di appoggio no? questa è una varie di appoggio una lista somma riga che creo e poi dimentico non è che è una cosa che mi serve per sempre ma mi serve come passaggio intermedio per calcolare il massimo e quindi nella mia testa ho una parte di codice che mi calcola questa variabile di appoggio di cui ho pensato che valori deve avere l'ho deciso io e poi una parte che analizza i valori che ci ho messo dentro per estrarre il valore vero che mi serve il risultato vero che devo calcolare quindi diciamo che questa funzione è un belico si basa essenzialmente su un'idea mi creo una lista con le somme di riga virgola idea riusata mi creo una lista con le somme di colonna una volta che ho pensato a quest'idea ho risolto sì poi ho tanti piccoli sottoproblemi ma avendo una lista come faccio a trovare la posizione del massimo ci penso un attimo però ho già il sottoproblema ho la lista con le somme trovare la posizione del massimo quindi data una lista creare la lista con le somme è uno degli esercizi che abbiamo fatto sulle matrici data una lista trovare il massimo è uno degli esercizi che abbiamo fatto cento volte quindi sono tutti pezzi piccoli algoritmini che già conosciamo la parte creativa la parte difficile è capire come decidere come metterli insieme perché noi abbiamo qua scelto una strategia di risoluzione di questa semplice funzione che è mi faccio una lista con le somme e poi a questo punto sapere fare le somme lo so fare sapere mettere le somme in una lista lo so fare quindi cercate di non perdervi nel senso di non perdervi tra le istruzioni python e rimanere sempre ancorati a quella che è la vostra idea risolutiva quali sono i passaggi che farei se li facessi a mano ad esempio che dati mi servono e poi scrivi le istruzioni vabbè poi magari non ti vengono le correggi fa lo stesso però deve essere chiaro che a quel punto se io mettessi alla riga 35 una print di somma riga lui mi stamperà qualcosa ma io devo sapere quale sarebbe il valore corretto da stampare quello che volevo davvero calcolare quindi prima di tutto devo avere io in mente i vari macro non i singoli passaggini ma i vari macro passaggi poi dopo diventa facile e io mi aiuto anche dividendo per funzioni io ho questa funzione ombelico non me ne frega niente del file non me ne frega niente delle stringhe devo solo fare dei massimi di numeri interi punto e lo diviso in quattro blocchettini ognuno fa un pezzettino questa è l'unica difesa che abbiamo contro la complessità dividere a pezzettini allora se tutto funziona non so che io l'ho raccontata ma magari ho sbagliato infatti mi dice che mappa di zero l'end di mappa ah si beh certo ho sbagliato una parentesi l'end aperta tonna non aperta quadra dove era qua aperta tonda chiusa tonda allora alla fine mi stampa sempre uno uno ma per fortuna se noi andassimo a modificare la mappa e mettessimo 2,8 qua in teoria l'ombelico si è spostato in posizione 2,2 vale 8 quindi proviamolo sempre noi all'esame scusate se ripeto tante volte la parola esame oggi ma non è per mettervi ansia vi forniamo sempre un esempio no? che è lo stesso nel testo in cui c'è la soluzione che si dovrebbe ottenere però per essere sicuri che il programma funzioni è sempre bene variare un pochino i dati su cui lo si prova cioè che non funzioni solo in quel caso lì il programma deve funzionare in tutti i casi di cui quello è un esempio quindi il fatto ad esempio che questo file avesse tre righe e sette colonne non c'è scritto nel testo quindi se poi vi arriva un file che ha dieci righe e quattro colonne deve funzionare noi non possiamo dedurre dalle caratteristiche di un esempio quale debba essere la regola generale è al contrario c'è scritto che le cifre sono da 1 a 9 ok? quella è una regola c'è scritto che la matrice è rettangolare quella è una regola il numero di righe il numero di colonne non c'è scritto nel testo e quindi può essere qualunque è chiaro 1 per 1 magari no ma più grande sì ok e quindi abbiamo fatto il primo pezzo dell'esame abbiamo fatto questo paragrafo qua stampami l'ombelico adesso resta la parte più divertente cioè l'evoluzione di questa tempesta cosa devo fare aspetta un attimo allora devo prendere la tempesta di partenza che ce l'ho e ripetere tante volte questa evoluzione di un passo quindi a me viene in mente di avere una funzione che gli do questa mappa e mi restituisce quest'altra poi questa mappa che ho ottenuto la ridò in pasto alla stessa funzione che leggerendo la seconda mi restituisce una terza quindi mi concentro su una funzione che data la posizione la configurazione di una tempesta mi calcola la nuova tempesta la nuova configurazione questa operazione la dovrò ripetere più volte fino a quando non trovo tutti i zeri nella tabella se trovo tutti i zeri nella tabella mi fermo quindi non so a priori quante volte dovrò ripeterla cioè un limite massimo ce l'ho perché se ho sette colonne al massimo dopo sette iterazioni sono usciti tutti ma magari escono prima si esauriscono prima quindi il numero di volte che devo ripetere lo spostamento della tempesta non è noto ma ad ogni iterazione devo ripetere la stessa operazione ok quindi io mi sto immaginando una funzione che mi calcola lo spostamento della matrice quindi prende una matrice e mi restituisce un'altra matrice e un'altra parte del programma che itera la chiamata a questa funzione la fa tante volte e quante serve ok quindi mi immaginerei una funzione ops non qua dentro sotto una funzione sposta tempesta e poi una parte del programma principale che la chiama a ripetizione fatemelo scrivere a livello di pseudocodice while tempesta non esaurita allora farò sposta tempesta e poi stampa tempesta sì sì adesso è solo sotto codice per ricordarmi no poi devo passare i parametri definirli far tutto bene adesso è tutto rosso tutto errore è solo un commento questa roba qua è per vedere se siamo d'accordo su quello che vogliamo fare quindi vuol dire che io devo definire almeno ancora tre funzioni una che data la mappa mi dice se la tempesta è esaurita facile vedete se sono tutti i zeri una che stampa la tempesta facile basta fare un po' di print l'altra che sposta la tempesta diciamo facile ma un po' più lunghetta sposta tempesta allora a livello di algoritmo poi ci pensiamo è chiaro cosa deve fare prende una matrice e deve cambiare i numeri come abbiamo visto prima quindi prima cosa deve essere chiaro a noi cosa deve fare se anziché chiamare la sposta tempesta si chiamasse Giuseppe Giuseppe lo saprebbe fare sa cosa deve fare ciascuno di noi sostituisca Giuseppe il proprio nome non possiamo dare tutto il lavoro a Giuseppe seconda cosa come comunica questa funzione col programma principale cioè ho due modi di impostarla una funzione che modifica la mappa e quindi ho una mappa sola che viene modificata oppure una funzione che restituisce una mappa diversa senza modificare quella di partenza cioè in un primo caso io potrei avere una funzione che riceve una mappa qua e poi dentro la funzione fai cose per modificare i numeri di mappa righe e colonne quindi di oggetto mappa ce n'è uno solo che è questo qui del programma principale che lo presta la funzione e la funzione gli cambia i valori va benissimo è una scelta oppure posso avere un altro modo di una sposta tempesta che riceve una mappa ma cosa fa costruisce una nuova matrice con i numeri modificati aggiornati senza modificare la mappa esistente e quindi farà a un certo punto return nuova mappa nel primo caso non è su un return ti do una struttura dati per favore modifichiamela bene io so che se ti do questa struttura dati poi me la sono persa non è più mia no? cioè i valori che c'erano prima li do per persi nel secondo caso invece ti do una mappa tu mi prometti di non toccarla di non modificarla ma me ne costruisci una nuova che contiene i valori aggiornati poi sarò io al programma principale che decido quando buttare via quella vecchia perché non mi serve più vanno bene tutte e due non c'è nessun problema devo solo però avere le idee chiare su quale strada scegliere se scelgo la prima strada è un pochino devo fare un pochino di attenzione in più a non rompere i vari alias alle strutture dati quindi nelle operazioni che faccio dovrò fare solo operazioni che vanno a modificare i contenuti delle liste e non a creare liste nuove quindi un pochino se vogliamo di vincolo in più su come implemento le operazioni ma alla fine le operazioni sono le stesse quindi una pendla posso fare una risonazione oppure no mentre invece nel secondo caso sono libero parto da una lista vuota e una matrice vuota ci metto dentro la roba che ho voluto calcolare ovviamente il programma principale si comporterà in modo diverso nel senso che in un primo caso chiama sempre gente sposta tempesta di mappa stampa tempesta mappa questo è il primo caso ti passo questa variabile tu me la modifichi io la stampo e andiamo avanti a iterare nel secondo caso farei qualcosa del tipo nuova uguale sposta tempesta di vecchia quindi o quella vecchia o quella nuova posso farci i confronti posso fare ciò che voglio e quando non mi serve più dimentico quella vecchia e faccio in modo che quella vecchia sia quella che è appena stracalcolata adesso fate due istruzioni potrei fare in una sola mappa uguale però qui avrei il vantaggio che per un certo periodo se mi serve o sia la vecchia che sia la nuova e sono io che alla riga 69 decido di dimenticare la vecchia e quindi quella che era nuova per me ormai diventa quella vecchia e da lì vado avanti con la terza successiva ok invece nel primo caso questa funzione non restituisce nulla non fa un return il valore di ritorno non c'è perché tanto ho modificato già i dati ok allora quale scegliamo io sceglierei forse la seconda mi sembra più tranquilla crea una nuova struttura dati siete presente che questo istinto di creare nuove dati in struttura dati è molto frequente in linguaggi dinamici python javascript eccetera mentre invece in altri tipi di linguaggi si tende ad essere di no no ma i dati sono lì non spostiamoli non creiamo altre variabili cerchiamo di lavorare come si dice in place cioè all'interno della stessa lista dello stesso vettore però al di là di questo segniamoci di provare a farlo anche nell'altro modo perché ovviamente dobbiamo saperlo fare allora costruisci una nuova matrice con numeri aggiornati senza modificare la mappa guarda che ce l'abbiamo già pronta il commento della funzione abbiamo già anche il return siamo già a buon punto basta scrivere il resto a questo punto per non avere errori di sintassi fatemi anche scrivere not esaurita di mappa not tempesta esaurita così sintaticamente è corretto poi ci mancano queste funzioni ma le faremo poi qui c'è solo un problema di allineamento scusate metto solo a posto per non avere le robe rosse sì questa è indentata male ok qui sono rossi perché manca la funzione ma per il resto la sintassi è ok allora concentriamoci su questa sposta tempesta allora cosa dice allora una cosa positiva che culo non ci ho pensato ma mi è venuto bene è che questa tempesta lavora per righe cioè quando io devo valutare l'evoluzione della terza riga della tempesta mi interessa solo guardare la terza riga di cosa è capitato nella prima nella seconda non mi interessa come algoritmo è facile e avendo una matrice che è fatta per righe mi va bene mi è andata bene questo non ci avevo pensato ma a questo punto sono contento sono sicuro che ci ha pensato che è scritto il testo di questo esercizio non complichiamoli troppo la vita e quindi cosa vuol dire ma vuol dire che la struttura di questa funzione è relativamente semplice prendo una riga per volta devo costruire una mappa nuova ok allora costruisco una riga per volta chiaramente quindi costruisco una mappa nuova vuota la prima riga della mappa nuova la ottengo prendendo la prima riga della mappa vecchia e spostandola un po' quindi a livello di struttura è molto semplice io avrò nuova uguale vuota for riga in mappa nuova riga uguale qualcosa parte uova vediamo un po' come costruirla e poi farò qui dentro faccio cose e poi farò nuova appunto append nuova riga poi lavora dentro i puntini chiaramente però ragionando sul fatto che l'evoluzione non è che va il vento non soffia in direzione oblique ogni riga della matrice di partenza serve per calcolare lei e solo lei serve per calcolare la riga corrispondente della matrice nuova e quindi adesso abbiamo riga che contiene dov'è? mappa contiene 143100 143100 e la nuova riga cosa dovrà contenere? 0 per forza da sinistra entrano 0 143 100 dove questo 1 in realtà viene anche lui ucciso diventato uno 0 viene decrementato quindi questo 0 qui pardon così purtroppo comunque questo qui si evidenzia a tutti quindi non si capisce questo qui è da cancellare qualunque cosa ci sia qua sparisce ci fosse qua sparisce qui entrano 0 gli altri disposti di 1 e poi devo semplicemente trovare qual è l'ultimo come decrementarlo dunque 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 allora vuol dire che la nuova riga ditemi se sbaglio a dire che la posso ottenere prendendo 1 0 e aggiungendogli la riga precedente tranne l'ultimo elemento poi devo decrementare l'ultimo elemento però spostare la destra di 1 prendo la riga di prima taglio l'ultimo elemento quindi il range dall'inizio fino all'ultimo escluso e ci schiaffa davanti 1 0 e qua ci torna utile la ginnastica che abbiamo fatto giocando con gli esercizi sulle liste esercizi cretini ma poi ci servono poi ci sarà qualcuno di voi che dice no ma io voglio fare un ciclo foro in cui copio gli elementi vabbè non giudico prego sì allora io cosa ho fatto qua devo partire da questo ok e ottenere quella sotto facciamolo in due passaggi il primo passaggio è prendo gli elementi li sposto a destra di una togliendo l'ultimo elemento a destra e aggiungendo uno 0 davanti allora io cosa ho fatto ho costruito nuova riga che sarebbe questa concatenando che cosa una lista di un elemento solo che contiene 0 che sarebbe questo più su un'altra lista più lunga ottenuta come prendendo la lista di sopra e togliendo l'ultimo elemento quindi ho fatto un range sulla lista una 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 slice una porzione della lista in cui ho detto dammi una copia di quella lista tutti gli elementi dal primo compreso fino all'ultimo escluso quindi la sintesi dello slice cioè due punti sembra una faccina scritta così due punti aperta quadra ma il primo elemento è 0 sottinteso è il primo l'ultimo elemento meno 1 è l'ultimo che però viene escluso dal range quindi mi da esattamente questa lista qua questa lista qua quindi 1 4 3 1 0 0 senza l'ultimo elemento corrisponde a questa espressione ci mette davanti lo 0 e mi concatena mi da la lista di una stessa lunghezza con lo 0 davanti senza l'ultimo elemento dimmi a che stiamo? ma è un esempio questo stiamo guardando la seconda riga perché era quella che aveva più numerini dentro però in realtà siamo dentro dentro questo ciclo for che ripete questa operazione per ogni riga quindi la prima volta riga sarà il primo elemento calcolerà nuova riga della prima e la appende alla matrice nuova poi passa la seconda riga calcola nuova seconda appende a nuova alla fine nuova avrà l'appenditura di tutte le righe nuove che ho calcolato dimmi non contiene di far decrementare eventualmente l'ultimo elemento che si arriva allora di sicuro dovrò allora sì fino boh ok allora lui dice adesso devo ancora fare un passaggio quello di prendere questo 1 e farlo diventare 0 ci possiamo dividere in due qualcuno che dice prima copialo e poi decrementi il numero oppure lui dice ma no io prima lo decremento quindi questo 1 lo faccio diventare 0 e poi dopo faccio questa operazione che uno dice chi se frega sono la stessa cosa in realtà no o sì esiste il caso in cui il risultato finale sia diverso pensando quando l'ultimo elemento è proprio l'ultimo a destra se può capitare che cambia qualcosa ma no perché l'ultimo a destra lo butto via comunque ah sì certo che cambia certo che cambia perché certo perché se io avessi così ok allora questo 1 lo butto via quindi in realtà dovrei decrementare boh allora se io decremento prima mi viene uno 0 qui e sotto e sotto rimane così se invece decremento dopo faccio questo e poi decremento questo 1 mi viene uno 0 quindi è diverso il risultato finale qual è qual è quei due la interpretazione più corretta andiamo a leggere il testo nell'esempio non c'è non capita capita questo 1 è rimasto 1 quindi prima ha decrementato il 3 l'ha fatto diventare 2 e poi l'ha buttato via in certo senso e quindi l'1 è rimasto 1 quindi devo decrementare prima di scorrere giusto giusto grazie quindi prima di fare questo devo decrementare cosa? l'ultimo elemento diverso da 0 quindi prima devo trovarlo e poi decrementarlo vabbè e quindi devo trova l'elemento più a destra diverso da 0 potrei fare posizione uguale a meno 1 while riga posizione uguale a 0 posizione uguale a posizione meno 1 parto dall'indice dell'ultimo elemento meno 1 se lui è 0 decremento passo al penultimo se lui è 0 decremento passo al terzo ultimo quando ne trovo uno che è diverso da 0 riesco dal ciclo e quel pose mi dà l'indice della posizione del primo elemento diverso da 0 completate la frase? mi dà la posizione del primo elemento diverso da 0 se c'è se non c'è si schianta quindi devo aggiungere una seconda condizione a questo ciclo while se però sono tutti 0 fermati comunque e per sapere se sono tutti 0 devo vedere se pose è arrivato così tanto negativo a essere uguale alla lunghezza allora va bene ma se devo ragionare così preferisco ragionare con i nici positivi per favore perché con il negativo mi perdo un po' dimmi allora lui dice vado a cercare nella matrice dove ho due caselle consecutive in cui un numero diverso da 0 e quello dopo è uguale a 0 allora non va bene per due motivi uno che se il numero è nell'ultima posizione non hai quella dopo uguale a 0 il secondo motivo è che non c'è scritto in nessuna parte che la tempesta sia compatta quindi in una riga potresti avere 232 000 232 di nuovo allora rifacciamo dobbiamo ovviamente bloccare questa cosa per non sforrare a sinistra quindi fatemi lavorare con i nici positivi che è la stessa cosa però l'elemento più a destra è la posizione l'endiriga meno 1 e poi vado a decrementare ma lavoro con i numeri positivi così sono sicuro di andare avanti finché la posizione sia maggiore o uguale a 0 quindi qua posso fermarmi quando arrivo a 0 e non ho trovato nessun elemento diverso da 0 oppure arrivo oppure trovo un elemento diverso da 0 se ho trovato un elemento diverso da 0 lo devo decrementare altrimenti non faccio niente quindi se ho trovato perché a questo punto sono uscito per due motivi diversi devo andare a chiedermi perché sono uscito il friga di pose diverso da 0 cioè l'ho trovato lo decremento se invece riga di pose è uguale a 0 vuol dire che sono arrivato fino alla fine ho trovato tutti i zeri quindi non tocco niente attenzione che c'è un errore magari ce ne sono dieci uno sono sicuro che c'è ho mancato una promessa c'era scritto senza modificare la mappa e io sto modificando la mappa perché riga è un alias all'elemento all'interno di mappa che è un alias e quindi sto modificando proprio la riga del main eh no dai gli ho detto che non la voglio modificare e allora facciamoci una copia ok non modifichiamo questo facciamocene una copia forriga il mappa va bene allora facciamo una lavoriamo su una copia ma poi no i numeri comunque mi dà del il problema è qua se faccio riga di post poi la vado a modificare quindi faccio una riga 2 che è una copia e poi lavoro tutto in questa riga 2 quindi la riga della tabella principale me la copio faccio questo lavoro la decremento e poi evidentemente userò questa per fare la concatenazione dimmi se intendevo prima è creare questa nuova riga con un elemento in più fare poi quell'operazione col guai per incrementare e alla fine fare posto da tutti sì è un altro modo anziché anziché fare prima ma tanto alla fine l'ordine questa operazione qua era fare comunque no? ok quindi quello di prima con riga già funzionava ma andava a modificare la matrice di partenza involontariamente quindi mentre se lavoro sugli alias devo fare attenzione a non perdere l'alias se lavoro sulle copie dei valori devo fare attenzione a non modificarli e quindi al limite mi faccio una copia locale che poi dimentico proviamo solo a a buttare giù una cosa rapida rapida ma se ho messo il commento ah se ricevo il due punto vabbè c'è qualcosa che non ah no perché non ho fatto la print scusatemi vediamo cosa sta succedendo vabbè qui ho messo un while true per andare all'infinito vediamo le prime righe che abbiamo stampato se ci piacciono allora il due si sposta diventa uno l'uno è diventato zero uno quattro tre uno quattro due uno quattro uno uno quattro uno tre così a prima vista sembra funzionare l'estetica non c'è la terminazione non c'è ma dobbiamo aggiungerle ma sono le parti che abbiamo chiamato facili ok direi che per oggi ci possiamo salutare grazie a tutti